ah ecco l'altro non lo sa che c'è il tipo ma guarda che io andavo ai 140 lui non conosce lì per fare giusto e abbandonato dall'altra parte Stefano adesso leggermente adesso ce ne può fare il giro perchè non abbiamo preso la direzione giusta e Ticket to ride un prossimo tratto 4 corsie e 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 un secondo e 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